eccoci eccoci qua ci abbiamo fatta guarda un po wow eccoci qua prendono anche l'altro telefono polvere ovunque polvos ci siamo siamo in diretta ciao a tutti buona domenica alessandra remonti non manca mai mai proprio come sta venendo bene no guarda qua ora questa parte molto bella anche qui è venuto molto bene guardiamo nei particolari andiamo nei particolari allora come tutti sapete i giorni scorsi o ieri ieri ho lavorato su queste parti qua ho spiegato il motivo per cui insomma sul fronte no qui sul fronte oggi invece ho lavorato sul retro spiegando che c'era una zona un pochettino un po più lineare questo è un secco tutto creato non c'era nulla e quindi anche il retro secondo me deve essere curato qui ho iniziato a fare un tipo di lavoro che vedo spesso sugli olivastri non è non è tanto male qui ci sono tanti vuoti vedi guarda non è per niente male allora che cosa ho utilizzato faccio vedere è un attrezzo autocostruito piccolo autoclave frusta e questo attrezzino qui un angolare questa è la spazzola che sto utilizzando adesso primo usato un disco è la spazzola che sto usando per ottenere tutte queste piccole venature medi queste si possono fare anche il lavoro finito sarà molto naturale guarda qua se lo mette guarda è proprio non ci passa l'unghia è molto fini il lavoro finito dicevo sarà molto molto naturale queste cose devono andare via ma insistendo con la spazzola si ottiene un bel risultato ecco bravo per fortuna il compressore piccolino quindi si attacca subito ma stacca anche immediatamente saluta a todos ah desde argentina argentina romans gros grande roman ciao egno precisazioni allora oggi ho avuto questa è bella ho già avuto un contatto con tante persone però un ragazzo mi ha fatto capire che una cosa andrebbe detta allora quando io ho iniziato a lavorare secco la legna secca per imparare ho utilizzato utilizzavo solo martello e scalpello questo mi ha consentito tante tante ore di lavoro di capire come erano fatte le fibre del legno di avere di prendere un feeling con le fibre del legno man mano che passava il tempo poi piano piano sono passato agli attrezzi elettrici allora un sistema non non esclude l'altro l'unica cosa che gli attrezzi elettrici sono molto più veloci e quindi ottiene dei lavori lo stesso risultato anche lo stesso risultato in tempi molto più brevi quindi se hai molte piante da lavorare o legni molto grandi da da creare come in questo caso qui gli attrezzi elettrici aiutano però si possono fare in tutte e due le maniere sia solo con attrezzi elettrici sia solo io io in questa fase alla fine sto utilizzando un po tutte e due e quindi non è che un sistema sia sbagliato la cosa fondamentale importante è sempre ottenere il miglior risultato possibile qualsiasi sistema tu utilizzi ok quindi tutto deve essere molto ragionato pensato è fatto con le giuste con le giuste competenze anche ciao ciao giovanni giametta quindi in questo momento adesso vediamo un po come allora è buono no è buono però ho molte cose che sono parecchio come posso dire parallele alla stessa distanza l'uno dall'altro quindi qualcosa bisogna per forza consumare per forza togliere ok bisogna per forza togliere qualcosa e si può usare uno scalpello si può usare adesso proviamo un pochino si può usare una sgorbia che la sgorbietta e quindi qua magari cerco di togliere qualcosa a strappo che vado longitudinalmente rispetto alle alle fibre e quindi vado a eliminare dei pezzi che secondo me non sono molto naturali per via della loro quindi ora in silenzio un pochino mi riposo ma nel frattempo lentamente quindi con molta calma si cerca di ottenere un effetto pochettino un pochino più naturale distanziandosi osservando bene il lavoro fatto così si cerca di di migliorare oggi ho risporvelato un attrezzo che non usavo da tanto sono comunque molto contento è questo risultato qua perché non è non è facile da ottenere quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il lavoro che possiamo fare con questa, ovviamente lo possiamo fare anche con questa, ok? Con questa qua. Quando lavoriamo il secco a strappo in questa maniera l'ideale è sempre aiutarsi con l'acqua. Se tu bagni, ammorbidisci le vene, ammorbidisci il legno e quindi si può utilizzare anche questo tipo di sistema qua, ok? Ovviamente questo legno qua è molto duro e quindi la sgorbietta e quindi la spazzola ad alta velocità, guarda quanto è consumata. Ad alta velocità è un po' più bella da utilizzare. Però se noi bagniamo otteniamo un risultato migliore. Però non ho indossato gli occhiali e può partire qualche pezzetto di metallo. Quindi con il legno bagnato non facciamo tanta polvere però indossiamo almeno gli occhiali. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 video stesso nel video stesso dovrebbe comparirti la scritta continuo con quella spazzola perché ci vorrà un po di tempo però è un risultato che viene molto bello solo che bisogna proteggersi anche anche i polmoni e quindi utilizziamo sempre la maschera dimentici facciamo male una decina una decina di minuti e poi vediamo il risultato a Grazie. 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 il lavoro fatto con con lo smeriglio con lo smeriglio dritto però ecco tutti i posti interni si dà una rifinita se se si bagna il legno poi le fibre si possono asportare anche con una pinzetta ok c'è chi usa il cannello per bruciare le fibre ma io preferisco non usarlo vedi in questa maniera togliamo guarda qua quanto è bello bisogna individuare quelle parti poco naturali tipo questa questa è un pochettino evidente adesso con una mano non è semplice lavorare però e così si va avanti si può andare avanti a strappo in queste zone però sempre bagnando preventiva preventivamente il legno quindi si stendo con la spazzola le sgorbie si riusci non usi liquido consiglianti ma fino a quando è che si la risposta è nella domanda perché stai già pensando ma se tende a marcire nel momento in cui tenderà a marcire utilizzerò i consolidanti e liquido jean ma con tutto il legno che c'è qua sinceramente preferisco che qualche parte marcisca un po di lavoro che lo faccia anche la natura allora nicola cascione adesso ti rispondo diamo su altre domande sulla spazzola no niente liquido jean che me ne faccio adesso ma in questo momento non serve a nulla liquido jean ieri ho detto non so sulla spazzola dipende dal tipo di lavoro che devi fare in questo caso come hai visto in dieci minuti mi ha fatto un lavoro che diciamo che a mano con la con la spazzola manuale fai in due tre ore in dieci minuti invece ho risolto però è meglio utilizzare questo tipo di spazzola acqua che lavora in modo longitudinale con un attrezzo angolare e non con lo smeglio dritto liquido jean non serve se usassi liquido jean non migliorerebbe l'effetto anzi non devo proteggere devo in questo momento voglio ottenere vecchiaia e si può andare avanti quasi all'infinito grazie carlo un po se riesco se riesco vediamo se se riusciamo guarda che bello dove non arriva la spazzola agisco con la sgorbia e cerco di raccordare tutto il lavoro vedi questo è poco naturale questo attacco qua se fate domande io rispondo volentieri mi ero anche già preparato l'argomento di riserva per oggi ma lo facciamo domani trattiamo domani dalla raccolta dopo quanto tempo lavori le piante subito appena danno segni di ripresa allora io diciamo mi porto molto avanti già nel momento della raccolta mi porto molto avanti quindi faccio il grosso lo faccio al momento della raccolta poi ovviamente un lavoro del genere che conviene farlo su una pianta sicura su una pianta che effettivamente ha radicato anche se poi con gli olivastri non c'è non ho di questo non ho questo tipo di problema potrei lavorarlo e finirlo però diciamo che aspetto a capire lo stile finale della pianta inizialmente non non è una cosa che a cui sono interessato inizialmente siamo interessati al fatto che radichi radichi nella giusta posizione è già quello e tanto è questa pianta qua è cavata da 13 mesi e quindi ho fatto già un sacco di lavori sopra appena appena radica appena è forte può subire un intervento io lo faccio ovviamente valuto sempre il tipo di intervento in base al vigore della pianta quindi c'è una bellissima luce e fa vedere quanto è tridimensionale il lavoro quindi oggi la luce perfetta mi piace molto fare questo tipo di lavoro grazie andiamo allora mi piacerebbe anche a me lavorare sull'arice è solo che io non ho l'arici non è che qua è difficile averli qua proprio non ci sono neanche in natura diciamo la sardinia è troppo calda per ospitare l'arici dovrei provare a coltivarli magari in vaso riesco spostandoli in modo opportuno magari riesco sì giovanni le sgorbie sono prodotte da me ne sto anche le sto anche diciamo commercializzando le ho vendute un po ovunque purtroppo con questa cosa delle spedizioni si è un po interrotto però ne ho vendute ne ho vendute ovunque nord europa in portogallo c'è un amico dal perù che aspetta di riceverle insomma si ho fatte da me grazie kevin oriana il tasso è sempre una via è una via di mezzo tra a livello di secco tra tra ginepro e olivastro sempre solito discorso del tipo di venatura quindi questo lavoro comunque sul sul tasso si può fare benissimo proprio questo genere di texture si può si può fare come si riconoscono le viene una pianta magari decidere di fare un secco su una senza rischiare l'altra parte rimanga è molto complesso risponderti anche se io ti rispondessi in maniera completa alessandro carollo se hai dubbi non devi fare un lavoro del genere perché puoi rovinare la pianta e quindi è un tipo di risposta che hai solo lavorando con un maestro non è una risposta che tu puoi prendere da un libro e metterla in pratica non è matematica non è per nulla matematica è tutta una questione di sensibilità estetica di sensibilità alla varietà conoscere la specie come reagisce alle scorteciature quanto puoi andare contro vena e quanto devi andare invece solo a favore di vena sono tutte cose che che impari facendo con un maestro qui io ho visto tu sei molto curioso su questa cosa qua però ti garantisco che non impari dovresti vedere decine di video sull'argomento ammesso che ci siano ma non ci sono prego giovanni carlo udero e si può fare non c'è problema e faccio questo tipo di cose su lavori importanti dove la spesa della spedizione del lavoro è giustificata si può anche fare una cosa del genere non è un problema il lavoro volentieri le piante altrui questa non è una pianta mia una pianta di un cliente e quindi adesso tra un po dovrò spedirgliela è alessandro carolo non è solo una questione di pagare le lezioni è una questione che impari molto di più in una lezione che in dieci video o con 100 spiegazioni impari tanti una lezione se ti viene fatta bene impari ovviamente devi andare da un maestro se vuoi imparare quello il giorno che lui fa quel tipo di lavoro magari non solo su una pianta su varie piante e quindi hai l'opportunità in una sola giornata di di imparare sempre fuori inquadratura quello che faccio fammi vedere qui qui sono fuori inquadratura qui 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 sono inquadrati quindi come vedete un lavoro di spazzola che poi comunque può essere rifinito a mano molto divertente molto salutare ciao omedeo è buono questa parte qua mi piacerebbe migliorarla impedisce un po così poi c'è una parte uso quella un po più grandetta è buono questa parte è buono questa parte e se fanno i tamponi a tutti e che non fanno neanche i tamponi che devono fare se fanno i tamponi a tutti è bello a tutti e qui è che è una cosa brutta che non può essere a sinformarsi però è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa domande domande l'effetto della finitura con la spazzola è molto bella sì Enzino è piaciuto anche a me sono abbastanza autocritico e quindi fosse venuta male l'avrei detto esci da lì esci mi stia rovinando qui esci buona Buon trabajo, muy buen trabajo. Molto buono. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. E' un lavoro anche molto rilassante comunque. No, no, no. 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 Interessante. Molto interessante. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. così domande ne abbiamo ragazzi praticamente qui abbiamo terminato è ormai il lavoro qua è finito togliere di questa terminato questo è il retro quindi guarda che bellezza michele michele è finito il mirto quando vieni a portare il mirto è finito il mirto quindi che facciamo di venire a portare il mirto e poi vieni a ritirarti le tue due piante che hai due piante qua sono pronte puoi passare alla coltivazione lo spazzolini dove si trovano online spazzola in ottone spazzola in acciaio ci sono anche di plastica per le cose più morbide come al solito io non la trovo no penso non c'erò qui quella verni avevo una verde uno spazzolino verde molto carino qualche volta eccolo vedi che ce l'ho carino questo è tanti servono moltissimi attrezzi per fare il secco servono più attrezzi per fare il secco che per lavorare la chioma la parte viva questo in assoluto proprio perché serve una grandissima quantità perché servono dai più piccoli e più grandi di ogni tipo spazzolini dai più piccoli e più grandi mi capita quando io cavo le piante poi le porto a casa cosa faccio le parti le parti secche le parti di secco a vista le spazzolo con questa quindi è molto grande poi dopo come sto facendo in questo momento passo a quella più piccolina vedi però quando cavo e sono esemplari così grossi hanno delle belle porzioni di secco tendo a pulirle parecchio proprio per possiamo vedere qualcosa diamo qualcosa in serra adesso vi faccio vedere avete visto come ho realizzato il secco qua e solo riguardiamo bene vedi ora che bella guarda guarda che bel movimento che a wow è molto dinamico è visto guarda anche i rami come sono modellati e questo il retro questo il retro perché tendo a lavorare tutto molto bene quel mio tavolino di servizio dove o di tutto e di più devo migliorarlo ancora la lampada grazie adesso vi faccio vedere qualcosa invece che naturale però io cosa faccio quando cavo non li trovo così quando cavo speriamo che non porta l'impianta quando quando cavo pulisco tutto il legno secco naturale preesistente e quindi mi ritrovo con condizioni sì fortunatamente sì un piacere da vedere fortunatamente ho degli esempi bellissimi su cui a cui ispirarmi e quindi quando lo creo da zero perché quello lì era proprio un tronco tronco normalissimo circolare riesco poi si pieno di forfora sulle spalle alla smetti guarda guarda i problemi di forfora che c'ho io oggi ovunque e allora guarda qui questa è ottenuta tutta grazie alla spazzolatura vedi ed è tutta naturale qui è tutto naturale guarda quello vedi vedi come alle sono riuscito col lavoro che ho fatto questo è tutto naturale guarda lì sono riuscito ad ottenere un buon risultato queste invece sono naturali quindi non c'è bisogno tanto questa guarda questa è bellissima guarda il secco di questa questa è naturale anche questa un legno simile e quando cavo anzino quando cavo ottengo pulisco pulisco per bene qui si vede poco perché ha preso 80 acqua e quindi è marcito di nuovo niente per astri per astri sono nella mia zona sono difficili non vado guarda che scorcio adesso faccio vedere questo scorcio qua guarda stupendo sogna stupendo chi le piante le piante o io ce lo scemo in diretta quindi ricapitolando per lavorare il secco abbiamo bisogno di no ho sbagliato di spazzole grandi spazzolini partiamo attrezzi manuali spazzolini plastica acciaio ottone sollevatore di corteccia autocostruito se vi piace sono capaci a farli sgorbie di queste sono cinque misure 24 6 8 10 mm le piante e sogna è attrezzi manuali scalpelli scalpelli di ogni genere attrezzi manuali sempre qui conviene che faccia una panoramica se no non ne usciamo da un altro spazzolino qua un quasi spazzolino ma non ce n'è più qui cosa abbiamo attrezzi che ci possono servire fessure attrice da 270 pinza per strappare taglio obliquo concava ottima concava più piccola quindi concava da 270 concava da da 2 10 concava da 180 due papà mamma e figli e poi anche questa perché anche questa chiappa bene strappa queste queste servono sempre antonio berliccioni occa cavo in qua ci sono molte colline private intere colline private niente chiedo quando vai a cavare sai già dove andare sono posti privati qui ci sono molte colline che sono dedicate solo al pascolo e le piante che che prendo io sono mi ha spiegato una volta un proprietario metto gli sembrava strano che io volessi queste piante perché mi ha detto queste sono le piante che quando c'erano i carbonai quando c'erano i tagliatori dei boschi queste piante invece se ne occupavano le donne perché bastava schiacciarle un attimo coi piedi e si rompevano si facevano la loro fascina il loro fascio di legna leggera perché sono legni ormai consunti dal tempo e molto leggeri scavati non hanno più vita non hanno valore forestale e quindi quando ti presenti se non è un amico così e gli fai vedere che cosa cosa si è interessato non è un problema anzi alla fine puoi diventare un amico è una specie di guardiano del posto perché se c'è il gregge e ci sei tu tutto tutto fila liscio no se sei una persona di fiducia e buona non stai ad interessarti al gregge agli agnelli alle pecore piuttosto che alle capre ma diventi un buon amico è una buona persona e alla fine è una sorta di pulizia perché sono piante al limite della vita io mi capita di cavare piante a cui do 23 massimo quattro anni di vita dopodiché muoiono perché le trovo completamente in ombra o appese nei dirupi e quindi hanno una piccola radice basta un acquazzone quella cade giù e muore quindi in più la maggior parte delle piante molte la maggior parte non cavo tutta la pianta quindi lascio la base lascio delle radici molto grosse e da lì riparte la vegetazione chiaro domande emanuele carrogo tu pensami interessante quindi attrezzi manuali abbiamo visti attrezzi elettrici sono tantissimi non finiscono mai attrezzi elettrici questa la uso per rifinire questa l'ho usata per consumare un pochino ma non mi è piaciuta se queste sono delle raspe questa è quella che utilizzo di più di tutte insieme a questa che queste da 6 queste da 8 la finitura la faccio con lo stesso tipo di punta ma queste da tre millimetri c'è anche po più grandetta meno queste lavorano benissimo se devo fare degli scavi sul legno non molto duro utilizzo questa chi c'è roba di tremel poi poi abbiamo ecco una cosa che non vi ho fatto vedere prima io utilizzo anche per realizzare un po tutti questi tutti questi tagli qua che ho fatto prima ho utilizzato questo praticamente è una mini troncatrice vedi che c'è i denti come le troncatrici per legno montata su questo su questo alberino qua angolare è flessibile quindi prima ho montato questa e ho creato tutti i tagli dopodiché ho lavorato un pochettino in diagonale per spezzare le linee parallele è evidente quel tipo di lavoro altrimenti avrei avuto tutta una serie di linee parallele poco naturali e poi ho proseguito con una spazzola tipo questa a cui siccome questo è molto grande non riesco a lavorare bene con con delle forbici adatte per metallo l'ho ritagliata un po più l'ho fatto un po più piccola un compressore e tanta volontà altre domande difficile spostare tutto vedere la pianta però mi piacerebbe farlo come fine come fine video vediamo se riesco intanto appoggio il telefono vediamo se riesco a così facciamo il punto un po su tutto spostare la servidora e poter girare la pianta sarebbe una gran cosa e poi la parte della sua vita Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso finiamo di girare la pianta così la guardiamo bene da tutti i lati. Grazie a tutti. Questa è stata un grande lavoro di ricamo. Questo è quel moncone che avevamo visto l'altra volta, che è stato vuotato completamente. Piccola rifinita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi, allora, raccontiamo un po' di questa pianta. Come ho agito? 13 mesi, ok? Quindi, un tempo molto molto breve, solo 13 mesi. Come ho potuto fare questo? Allora, il cliente mi chiedeva un olivastro a cascata. Un olivastro a cascata naturale non si trovava, cioè, insomma, non lo trovavo. E quindi ho trovato questo alberello che ha la sua età comunque ha un bel po' di anni, sicuramente supera i 100 anni di età naturali. E ci ho intravisto qualcosa. Prima di tutto un bellissimo movimento. Quindi la pianta è stata spiantata senza radici, quindi tagliata la base. È messa in questo vaso con bardula topsoil, granulometria piuttosto grossa. 1,5-2,5. Un centimetro e mezzo, due centimetri e mezzo. Questo è il range di granulometria. Diciamo che è andata subito molto bene. Nel giro di un mese già iniziava a vegetare, a germogliare. Dopo tre mesi dalla cava ho fatto il primo step perché aveva già una chioma enorme ed era pronta per un primo step. Secondo me perché aveva anche tantissimi... Non è il tuo, volcanic art. No, è già... è di un nostro cliente, un cliente che abbiamo in comune, Andrea o Giuseppe. Chi è che sta scrivendo a nome di volcanic art? Qui Giuseppe o Andrea? Dopo... quindi passati tre mesi ho fatto un primo step di sgrossatura e scelta delle vene. Queste qui... queste qui ho sezionato tutte queste vene e il resto l'ho scortecciato, perché questo era tutto tronco, pieno. Ok? È stato scortecciato, dopodiché... dopodiché l'ho risistemata per far sì che cicatrizzasse in tempi brevissimi, in 15 giorni praticamente. L'ho sistemata di nuovo in serra umida. Andrea, non è tuo. Questa è di Maurizio. Quindi dopo averla sistemata di nuovo dentro, in 15 giorni la pianta ha reagito bene, al che l'ho riportata fuori e ho fatto... ho iniziato la parte di sgrossatura sulla legna. la grossa parte di sgrossatura, perché aveva già cicatrizzato tutti i tagli e ha continuato a crescere. In quel momento ho deciso... In quel momento ho deciso, perché vedi che qua il tronco, qui il tronco, fa questo giro, va giù. Ho deciso di dargli un movimento in più, facendo passare praticamente la vena, facendola girare dietro, vedi? Così, così, e poi davanti, andando a separare qui, fare un cambio. Ho fatto un cambio del flusso linfatico. È un lavoro che sconsiglio a chiunque, perché devi avere una struttura adatta a far sì che la pianta cicatrizi. La pianta era già concimmata abbondantemente, preparata per poter subire quell'operazione. E quindi sconsiglio a tutti di poterlo fare, di fare una roba del genere, perché puoi perdere la pianta. Quindi ho fatto un cambio di fasci linfatici, cambio di direzione. Ho pregato un pochettino e per fortuna è andato tutto bene. Dopodiché ho fatto tanti step sulla legna secca, sino ad arrivare al risultato odierno. Diciamo che questo è praticamente il quarto step che sto facendo. Quindi ci sono tantissime ore di lavoro, 60-70 ore di lavoro solo sulla parte secca. Non mi serve il mastice perché io in 15 giorni faccio cicatrizzare la pianta mantenendola ad un'umidità molto elevata. Quindi non utilizzo il mastice, una perdita di tempo. Non mi frega niente a me di usare il mastice. Poi lo devi togliere tra l'altro. Invece non lo metto e le piante cicatrizzano molto bene. Sino al momento odierno. In questo momento diciamo che il secco è praticamente finito. Vi ho parlato di uno step che dovrà essere fatto tra circa due anni. Che è quello di utilizzare, perché in questo momento non si utilizzano protettivi. Liquido Gym, nessun prodotto fungicida, nessun prodotto che abbia rame o zolfo che vada ad ammazzare funghi. Perché mi serve il lavoro dei funghi. Ci sono ancora dei microsegnetti dovuti dalle frese comunque perché sarebbe un lavoro da pazzi. O hai una microsabbiatrice dove spari della sabbia veramente fine, della polvere, non della sabbia. E allora vai a eliminare veramente tutto. La seconda. Hola Alicia. Alicia ci segue dal Messico. Alicia desde Messico. Mexico. Quindi l'ideale tra due anni è aver fatto lavorare i funghi in profondità. Perché tra l'altro dentro lavorano meglio, sono più protetti. Con una pistola tipo di quelle giapponesi ad alta pressione. Si va davvero a pulire, a togliere, a togliere tutti i funghi, togliere tutto il legno marcio. E verrà un lavoro spettacolare, il migliore che si possa ottenere. Quindi in questo momento non si tocca più. Si fanno lavorare i funghi. Nessuna protezione. Guai proteggere. Quindi ora si coltiva tranquilli. Sole, acqua. Sole, acqua. Bagnare spesso la legna. Tenerla più umida possibile. Dopodiché lavorare sulla chioma. In questo vaso, il vaso è molto grande. Abbiamo anche Giuseppe Callegaro. Il vaso è molto grande. Quindi contiene almeno, diciamo ci sono 60 litri di terra. Quindi il vaso è grandissimo. Ci permette di ottenere tutti i diametri e tutta la chioma solo con questa dimensione qui. La cosa buona di coltivare in questa maniera è che ovviamente io dentro il vaso non ho radica. Non ho porzioni di legno che dovranno essere eliminati dopo. Ma sono quasi tutte radici. La posa in vaso bonsai sarà molto molto semplice perché stando in questo vaso questa pianta per alla fine per quattro anni circa, dopo dovrò ritagliare la zolla e inserirla nel vaso bonsai definitivo. Definitivo di coltivazione ovviamente perché non puoi non puoi coltivare nel vaso da esposizione. Dovranno essere molto simili però il vaso di coltivazione in genere, anche se giapponese, è meno pregiato del vaso da esposizione. Sono due cose differenti. Massimo Rigo al lavoro. Il tuo capo ti licenzia Massimo. Questo è quanto. Niente sto mettendo a punto dei piccoli attrezzini come il castoro che poi saranno proposti anche in vendita. Questo tipo di sega ad esempio ti permette di poter tagliare sempre senza che si punti il segaccio, si spezzi perché ha dei denti fantastici. Poi ci sono tante cosettine che sto tirando fuori da tutta l'esperienza, da 30 anni di esperienza che ho in questo campo e quindi a breve usciranno molte molte sorprese, molte cose. Piccolo annuncio commerciale oggi ci sta. Mi pare anche di meritarmelo visto che tutti mi dicono che sto dando tantissimo, dando anche di più di chi si fa pagare. Ciao Andrea Orsi. Era buono dirlo. Le sgorbie costano solo 12 euro l'una. Solo 12 euro il pezzo. Pochissimo. Una Kaneshin costa simile ma il doppio tagliente quindi ti fai male. Costa 60 euro spedita una. Quindi... Grazie Massimo. E quindi 12 euro l'una più la spedizione. Arrivano via posta. Le sto spedendo con la posta. Arrivano tutte. Ovviamente a Bergamo e zona Milano siamo ancora fermi. Purtroppo questa cosa ha fermato tutto. Non metto i prezzi. E a breve arriverà una cosa fantastica che è molto meglio del sito e-commerce. Non dico nulla. Una cosa... Una bomba fantasticissima dove potrete acquistare tutti gli attrezzi e le cose che io ho testato, che testo e ho testato in genere minimo 5 anni. Ok? Quindi io in genere, per essere sicuro, per dare un consiglio, come se avete visto solo adesso che mi sono messo a fare i video, video esplicativi sulla bardula, sui terricci. La bardula sono 5 anni che la utilizzo. Non solo io, anche altri. Quindi mi sento sicuro di poter dire funziona. Ok? Lo so, speriamo a luglio. Che cosa a luglio, Enzino? Ah, speriamo a luglio per le spedizioni. Ho capito. No, 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 Antonio. Molto meglio, molto meglio. È in arrivo una cosa fantastica. È in arrivo, vi dico la... Visti siamo un po'. È in arrivo la guida sulle Margotte. L'ho mandata in stampa. Penso che domani, al massimo martedì, mi arriva la coppia di prova per vedere se è tutto ok. Quindi entro fine settimana avrò a disposizione le prime copie della guida sulle Margotte fatta da me. È fatta con foto ad alta risoluzione, molto grandi, con spiegazioni semplicissime. Ho chiesto la revisione del testo ad una persona che non capiva nulla di piante, proprio affinché venissero eliminati tutte quelle cose che magari uno non... non del mestiere, uno che non sa nulla di piante non ci arrivi, non capisca. Molto è fatta a livello altissimo, però è efficace per tutti. Prenotto una piccola. E vediamo, vediamo, vediamo tutte queste cose. Arriverà una cosa fantastica per poter acquistare. Ok? Non vi dico adesso che cosa perché... Chi è che mette la faccia arrabbiata? Non vi dico ora che cosa perché prima voglio averla fisicamente e dopo dirò di cosa si tratta. Non è un sito e-commerce ed è molto meglio. Bene. Ci salutiamo. Domani riprendiamo in mano una filirea, non quella che ho rinvasato ma l'altra, perché ci sono novità. E quindi vediamo il continuo. Chi mi sta seguendo, chi mi segue sempre, vede tutti i video, e vede anche questi piccoli tutorial che vanno avanti nel tempo. Sono bellissimi secondo me. Io magari ci fosse stato qualcuno quando ho iniziato io, ci fosse stato qualcuno che facesse dei tutorial così fatti quasi al microscopio. capire le gemme, la posizione, la funzione delle foglie, la posizione delle foglie. Si parlava di forma di chioma triangolare. devo dire che anche la maggior parte delle persone che insegnano sono rimaste purtroppo a questi concetti primordiali. Forma di chioma triangolare, punto. Ma poi bisogna capire nello specifico cosa fare, come passare il tempo con le nostre piante. E quindi io sono arrivato al punto di scegliere anche le foglie in base alla loro funzione fotosintettica. Quindi voglio solo foglie che fotosintettizzano, attive. Il resto le tolgo. E man mano che vado avanti avrò foglie sempre più belle, sane, robuste, a pianta robusta, con foglie superattive. Le altre le diamo via. Non sempre diretta, me li vedo tutti. Grazie Valerio. Valerio, tu sei un grande esperto di arte. Ho visto delle robe che dici, che commenti. Complimenti. Andrea Orsi gli è scappata. Quindi domani riprendiamo in mano la filirea e vediamo fase successiva. Tutte le fasi sulle filiree, sulle latifoglie che faccio io, sempre verdi o a foglia caduca, non è contemplata la defogliazione totale. Mai. A meno che non faccia un rinvaso drastico. Altrimenti, se è in coltivazione, io ho eliminato quel concetto di defogliazione totale a giugno. Ve la ricordate questa regoletta qui, no? Che abbiamo visto nelle riviste per decine di anni. Giugno, vuoi ottenere delle foglie più piccole, dei nuovi germogli, bla 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 bla, defogliazione totale. Guai. 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 Solo guai. Perché a giugno tu defogli totalmente, la pianta non tira, irrighi come al solito, il terriccio rimane zuppo. Se hai a cadama ancora peggio, perché magari sei già un po' in polverita dentro con patata, problemi di funghi. Tiraggio sempre. Non blocchiamo il tiraggio sulle piante. Sono già passato al prossimo argomento, eh? Quindi domani ci vediamo sempre alle 16. Trattiamo argomento filirea, barra, latifoglie. Sempre verdi, caduche, non importa. Il concetto è uno. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie tante. Guarda. Guarda la luce che c'è ora. Fantastica, eh? Bellissima. Grazie ragazzi.